Fiume Metal Nerds Episodio 3, altrimenti noto come How to be a Metal Nerd o altrimenti noto ancora come Storia di come sono diventato un otaku Dobbiamo tornare indietro di un sacco di anni E... facciamo così La prima cosa che mi ha avvicinato al mondo giapponese Anche se non ne avevo idea, come la maggior parte di voi Non ne aveva ancora idea E' stato il Super Nintendo Super Mario e palle varie Ma questo fa parte dell'infanzia di quasi tutti Ma andiamo alla parte divertente Partiamo dai 12-13 anni? Da quelle parti lì? Ok, era un bambino grasso Più grasso di adesso Molto più grasso di adesso Non che adesso... più grasso E a 13 anni un bambino a cosa pensa? A giocare A giocare le carte dei Pokémon All'epoca Erano tempi in cui il Game Boy era ancora in verde e nero E per giocare con qualcun altro Dovevi avere un cavo orribile Tipo una... Una porta seriale da stampante A attaccarti per giocare Io avevo un Game Boy rosso con Pokémon giallo Comprato in Francia Era in francese Ci ho messo una vita Una vita A capire come far spostare Snorlax Perché mi diceva di prendere il flauto Ma non capivo cosa diceva Perché era in francese Ci ho speso anni E poi ho scoperto... Vabbè Sapete come funziona Però c'era un problema di fondo Che a parte quegli altri due o tre Amici con cui si giocava Eccetera Si iniziava a scremare la situazione Tra chi Chi ti prendeva in giro Perché giocavi alle carte dei Pokémon O al Game Boy Eccetera E chi invece ci sguazzava Come me Ma Fino a quel punto Non c'erano grossi Non c'erano stati grossi problemi Ne Grosse discriminazioni O Settorializzazione Settorializzazione esiste Comunque Un paio d'anni dopo Al posto che spippolare tutto il giorno Il Nintendo Avevo 14 anni Giù di lì Quindi Cosa si spippola a 14 anni Quando non si tratta del Game Boy Il problema qual era? Era che Non c'era ancora internet O al meglio c'era Ma faceva quella cosa tipo Io non avevo ancora internet a casa C'erano dei miei compagni di scuola Che arrivavano con dei plichi così Di foto Di Dragon Ball X Che Mediaset Non ha mai dato Ma che probabilmente Adesso Comunque E quindi si iniziava a fantasticare Su queste cose Perché vedevi I personaggi Che avevi imparato ad amare Prima che Mediaset Ridasse Dragon Ball Tipo 75 milioni Di volte Nella storia Del proprio palinsesto Credo Che si possa fare Una specie di calendario parallelo A quello normale Posizionando le puntate di Dragon Ball Durante i giorni Per esempio Il 13 ottobre 2015 Potrebbe essere O il 13 ottobre 2015 O il 27esimo anno di Dragon Ball Il sesto mese e 27 anni di Dragon Ball Una roba del genere Sto delirando E Già lì ero abbastanza nerd Perché in realtà Dragon Ball avevo visto la prima volta su Antenna 3 Che aveva la dignità Di passare i cartoni animati In maniera Seriale E non come facevano su Italia 1 Che ti passava un giorno La puntata della quarta stagione Delle tartaruga ninja E il giorno dopo La prima puntata Della seconda stagione Degli X-Men Io non ho capito Quanto dura il cartone Degli X-Men Quello di insuperabile X-Men Dove c'è Wolverine Con il vestitino giallo E la X Comunque Dragon Ball X Tette C'era un grosso problema di fondo Il grosso problema di fondo Era che Primo non avevo internet E quindi Pagavo qualcosa come 500 lire A foto Fate su ordinazione Da questo catalogo Per spippatori folli Alle superiori In secondo luogo C'avevo l'ansia Che me le beccassero Diventi cieco Ti vengono i peli sulle mani Diventi stupido Cose del genere E c'avevo l'ansia Cioè Non ci puoi fare niente Mamma Non sono cieco E ho le mani Che sono galabre Quindi Mi hai mentito Senza internet E a parte queste immagini Che mi costavano una follia Perché dopo un po' Cioè Non è che potevi usare Sempre la stessa E soprattutto Spiegabilmente Si deterioravano in fretta Il miracolo delle edicole Le edicole Che adesso stanno scomparendo Dietro lo sapete C'avevano la paretona Mimetizzata E io avevo comprato Angel di Eugene Che è un fumetto del 1988 Ma l'ho buttato dopo due giorni Cioè l'ho tenuto nel cassetto Delle mutande In cameretta Per un paio di giorni Ma poi Non è resistito alla pressione All'idea che potessero Beccarlo eccetera E tipo L'ho buttato via E non so Non è che l'ho buttato via sotto caso Ho attraversato il paese E l'ho buttato Dall'altra parte Della città Ci ho messo tipo due ore e mezza Per andare via A buttare via un fumetto Che avevo pagato anche Non poco Per le mie poverissime tasche Di ragazzino Un peccato Perché a quanto pare È una roba abbastanza ricercata Da trovare in giro Sono difficili Aveva anche delle immagini Sai quelle che se le fissi Per un po' Ti compare l'immagine in 3D Se vi capita di cercare su internet Magari le trovano Io non le ho trovate Era Era figo E quindi Sì Le tette Mi hanno condotto Sulla via del fumetto giapponese Non dite Non scandalizzatevi Lo sapete anche voi Cosa andate a vedere Alle fiere di cosplay? Chi fotografate le fiere di cosplay? C'è gente che si lamenta Maschi Con dei bei costumi Che nessuno li fotografa mai E non hanno le tette Maschi Fatevi crescere le tette Perché lo sappiamo Che ci andiamo per quello Dai Quindi 14 anni Le compagnie iniziavano A scremarsi Iniziavi a settorializzarti E Essendo io Un emarginato ciccione Rifugiato nei fumetti Eccetera Oltre a quello Ho iniziato ad avvicinarmi Ai libri E In quel periodo lì Poco dopo Poco dopo E È saltato fuori Il fenomeno Del Signore degli Anelli Si iniziava a parlare Dei lavori Che stava preparando Peter Jackson Internet Iniziava ad essere Ah Internet Quando è arrivata Perché alla fine È arrivata anche da me I primi due mesi Il telefono di casa Risultava Perpetuamente occupato Perché Il modem Non ti filtrava le cose O telefonavi O usavi internet E i primi due mesi È stato così Perché poi avevo scoperto WinMX Ed era stato come Arrivare in America Tipo il quarto mese È arrivata a casa Una bolletta Da 800.000 lire Una roba del genere Volevano ammazzarmi Io nego ancora adesso Ma Mamma È colpa mia E Poco dopo È arrivato Il Signore degli Anelli Eccetera E iniziavo a raccattare Qualche fumetto I primi fumetti Che compravo Che ho comprato Serialmente Cercando di seguire Il più possibile Per quanto fosse concesso A un ragazzino Di quell'età È stato come avevo già detto Nel vecchio video Dilan Dog Perché Dilan Dog Non per i mostri Ma perché Dilan Dog In quegli anni lì Ogni volume scopava sempre Ok E lo sapete Poi da Dilan Dog Ho iniziato a comprare Bastard Perché sulla copertina C'era della gente Con le tette Le tette Sono la La principale ragione Della mia esistenza E Signore degli Anelli Figo Mediovale Così Non ci sono tette Ma va bene lo stesso Appassionato del Signore degli Anelli Vai avanti Col Signore degli Anelli Allora Leggi Ci metti una vita A leggere questo libro gigantesco Cercando di leggerlo Prima Dell'uscita del film Cosa praticamente impossibile E E da lì in poi Ti appassioni anche al fantasy Ti appassioni al fantasy Mi appassiono al fantasy Inizio a leggere altre cose Cercare Fare Disfare E nel mentre Si iniziano le superiori O erano appena iniziate O stavano iniziando Scuole superiori Scuole superiori Le ho fatte a Vercelli O ho avuto la grande fortuna O l'enorme sfortuna Di avere le scuole superiori Davanti a una fumetteria E lì è iniziato il degenero È iniziato il degenero Perché ho iniziato a comprare Una quantità di volumi Incredibili Perché Ero stato settorializzato Ok Io ero il nerd ciccione E Ad un certo punto Hai bisogno di un'etichetta A quell'età Hai bisogno di qualcuno Che ti dica Di sapere chi sei Anche se non sai ancora Esattamente cosa farei Dalla tua vita Però hai bisogno Di incanalarti Da qualche parte E a me Il ruolo del nerd ciccione Stava addosso perfettamente E quindi Volente o nolente Ho iniziato A leggere fumetti Il Sto cercando Di pensare Ah ok Mi sono fatto un'idea Di quello che mi piaceva In maniera seria Senza cercare soltanto Di vedere le tette O le mutandine bianche Di cui credo che Giappone sia Il primo produttore mondiale Guardando una sera Su MTV Quando MTV Faceva ancora musica E cartoni animati Avevano fatto Robotron Era durato Una sera Era tipo proprio 12 o 24 ore Non mi ricordo più Dalle 6 di sera Alle 6 del mattino dopo Soltanto di anime Pilot di anime E poi da lì Hanno tirato fuori Ovviamente Evangelion eccetera Che è stato Un appuntamento Irrinunciabile Del martedì sera Per un sacco di tempo E Grazie a MTV Ho scoperto Slam Dunk Evangelion Inuyash E quindi ovviamente Il primo fumetto Che ho comprato È stato Slam Dunk Sì Probabilmente sì Non so se è stato Il primo Comprato Comunque A cui sono Sono legato È stato Slam Dunk Che è stupendo Da lì in poi Ovviamente Continuavo anche La passione Per i libri fantasy I film del signore degli anelli Che mi hanno fulminato In maniera incredibile E poco prima Arriba un mio amico E mi fa Toh Setti sto gruppo Fanno tipo Fanno No Prima Allora Prima cosa Che ho comprato Invece Di disco Per rimanere in tema Metal nerd È stata la colonna sonora Di Matrix Sempre Io non avevo ancora visto Matrix Ve lo giuro Però Quanto pareva Proprio perché Dovevo essere Incasellato In qualche Ordine Etriaco La colonna sonora Di Matrix Faceva per me Che spettacolo Rage Against the Machine Marilyn Manson Rob Zombie A riascoltarla adesso È ancora un disco Che è una bomba E all'epoca Mi ha aperto Così Mi ha sventrato Il cranio Come un piede di porco E mi ha fatto conoscere Quella che era musica Che su MTV Mentre c'era Robotron Non passava E ho iniziato A seguire anche quello Fino a quando Un'estate Un mio amico Mi fa Oh devi ascoltare Questo gruppo qui Si chiamano Rhapsody Fanno Power Metal Che cazzo è Il Power Metal Ascoltiamoli È tipo Raccontano le storie Del Signore degli Anali Con i chitarroni Ascolto Parte sta cosa Amore a prima vista Amore a prima vista Perché Il Rhapsody Più in generale Nel Power Metal Classico italiano Quello che arriva È È È Quello Cioè Loro In primis Sono Dei Metal Nerd Quindi nella mia crescita Di Otaku Si è affiancata Questa Passione Per un determinato Tipo di musica Che ovviamente Poi cresce Cambia Nel mentre Da lì ho iniziato A prenderci gusto Nel senso che Non era più Un incasellamento Era quello che mi piaceva Era Era l'acqua in cui Sguazzavo E quindi Si è andato avanti Così A salire E Da lì Nella musica Si è andati Sempre di più Impesantendosi Fino ad arrivare Al det All'industria E per poi Avere un ritorno Verso la musica italiana Eccetera Dall'altra parte C'è stato Prima una quantità Di fumetto industriale Quando ho detto Basta Li compro Solo quelli che è Avevo fatto Un calcolo E avevo speso Qualcosa come 2000 euro In un anno Senza un lavoro Facevo ancora Le superiori Per farvi capire Quando dovevo fare Giornata intera Io Avevo i soldi Per comprare il pranzo Non compravo il pranzo Andavo a comprare fumetti Andavo a comprare fumetti E quindi ne compravo Tre volumi al giorno Una roba del genere E Non è ancora finito Guarda che quando è iniziato E l'eronimo Sera ancora vivo Ma quanto tempo è già passato Vabbè Continuo la prossima volta Nel delirio Così vi spiego Cos'è successo poi Dalla Metà delle superiori Fino adesso Video delirante Non so se c'è capito qualcosa Comunque Grazie per la pazienza Almeno è stato più corto Dell'altro Che sfioravo i 30 minuti E mi sarei ucciso da solo Tanta birra e prosperità Ciao a tutti Quad'. Ciao a tutti Ciao a tutti